Buonasera Umberto. Buonasera Pierpaolo. Siamo qui a Los Angeles, tra qualche giorno si aprirà le 3 di questa edizione 2019, tra un po' meno giorni inizieranno le conferenze, ma mentre noi eravamo in volo, mentre stavamo venendo qui a Los Angeles, c'è stata questa attesissima, diciamo, prima corposa conferenza colma di dettagli riguardante Google Stadia, quindi il servizio streaming appunto di Google che era già stato svelato qualche mese fa e che adesso è venuto fuori con un po' più di dettagli. Sì, corretto, è stata una conferenza interessante perché ci ha dato una prospettiva, un orizzonte temporale per quanto riguarda l'uscita, le tempistiche e l'offerta. Permangono dal mio punto di vista, ma magari ne parleremo un pochino più avanti, alcuni dubbi relativi al pubblico di riferimento. Però sì, è stato un bel inizio della settimana pre-3. Esatto, hai detto benissimo, è stato proprio un'apertura di queste 3 che appunto si pronuncia essere già un E3 bello scoppiettante. Diciamo 3-4 informazioni fondamentali su cui iniziamo a chiacchierare. Allora, la primissima è, secondo me bisogna iniziare dal discorso del prezzo, che è la parte più interessante. Stadia arriverà diciamo in due versioni. Una versione liscia, gratuita, completamente gratuita, che permette però uno streaming massimo a 1080p, 60 frame al secondo, e una versione pro, al costo di 10 euro, ovviamente 9,99, che permette di arrivare fino ai 4K, 60 fps, supporto anche per quanto riguarda il Dolby e credo anche l'HDR, anzi sicuramente, e in più una serie di giochi gratuiti a rotazione, un po' come fanno i vari Xbox Gold o lo stesso Epic Game Store, partendo proprio da Destiny 2 che è stato anche rilanciato per l'occasione. Questa è la prima grande differenza. Quindi comunque si confermano un po' di quelle voci che avevamo detto a suo tempo, insomma, c'eravamo un po' tutti dibattuti. Ci sarà un abbonamento, non ci sarà un abbonamento, in realtà è una via di mezzo, perché si può utilizzare tranquillamente senza abbonamento, oppure se non ti vuoi abbonare hai una manciata di cose aggiuntive, diciamo una manciata di fissure aggiuntive, rimane l'elemento cardine che in entrambi i casi i giochi te li devi comprare. Sì, che è una formula comunque abbastanza particolare dal mio punto di vista, perché soprattutto guardando in prospettiva quello che potrà essere lo sviluppo di Stadia, io penso che il riferimento per Google non saranno tanto gli utenti che vorranno acquistare il gioco classico all'Assassin's Creed, o all'Ago Stricon, sempre per rimanere nell'ambito di Ubisoft, che sappiamo ha comunque un legame abbastanza forte con Google in questo progetto, ma sarà più che altro un pubblico che tenderà a giocare magari titoli più piccoli o free to play o mobile. Quindi, sì, diciamo, è una formula interessante che in questo momento strizza più l'occhio al giocatore classico, anche se per me il futuro di Stadia resta fortemente legato a un pubblico un pochino più nuovo, chiamiamola anche un pochino più casual, nel senso che magari tutto il pubblico mobile, tutto il pubblico di chi segue i fenomeni di YouTube, piuttosto che il super appassionato verticale sui videogiochi. Esatto, noi chiacchieravamo prima, in modo approfondito, proprio di questo discorso di dover comprare il gioco base, che apre comunque una serie di, allora, non problematiche, preoccupazioni, perché allora partiamo da un presupposto, hai detto benissimo Ubisoft, Ubisoft da sempre si lega tendenzialmente a tutte le piattaforme appena escono, uno dei, fra i tanti giochi che vengono annunciati, ovviamente, che sono stati annunciati, ovviamente c'è il nuovo Ghost Recon Breakout. Ora, è impossibile immaginare uno scenario dove hai Ghost Recon Breakout che costa 60 euro su Uplay, o 50 euro quanto costa su Uplay, e su Stadia costi meno. Cioè, necessariamente dovrà costare almeno uguale, non so se siete d'accordo. Assolutamente, sì. Con la grande differenza che, naturalmente, su Stadia non hai il gioco fisico. Cioè, comunque, è un ulteriore passo verso il non possesso del prodotto. E questa cosa, secondo me, è molto complessa per l'utente, anche l'utente un po' più smart, un po' più smaliziato, cioè, accettare un uguale prezzo per avere qualche cosa in meno. Sì, diciamo che è un passaggio che da un certo punto di vista è già stato fatto quando si è diffuso il digitale, nel senso che, comunque, il digitale ha imposto prezzi molto vicini, se non uguali, a quello del fisico, nonostante non ci sia la rivedibilità dell'usato. E non ci sia il fisico. E non ci sia il fisico, appunto. Più che questo aspetto, che appunto è già stato un pochino assimilato con il digitale, secondo me resta il fatto che è complesso che uno voglia acquistare un gioco da 60 euro in streaming. Cioè, il giocatore appassionato, quantomeno in un orizzonte temporale breve, avrà comunque la sua console, il suo PC. Cioè, l'idea di acquistare a 60 euro il gioco che potrà giocare o che potrebbe giocare anche su PC o console, comunque è abbastanza complesso. Cioè, è più che altro una formula che, credo, Google abbia dovuto abbracciare per avere il supporto da questi grandi publisher. Cioè, è più un dover fare di necessità virtù. Ma non penso che il futuro di Stadia o Stadia, come preferisci, passi dalle produzioni AAA vendute a 60 euro. Sì, sicuramente, hai detto benissimo, sicuramente è uno scenario un po' particolare. Secondo me, hai detto bene nel momento in cui, dice che probabilmente Google è dovuto sottostare una serie di richieste. Ecco, come appunto il fatto di non poter svendere i giochi che sono sopra quella piattaforma, per ovvie dinamiche di mercato. Allora, è una situazione un po' complessa, perché, per esempio, io ti potrei dire, io personalmente potrei essere disposto a spendere la stessa cifra che spendo su Steam o su Uplay per avere un gioco che poi concretamente mi posso giocare. Cioè, per me l'elemento del poterlo giocare è dappertutto. Cioè, potermelo giocare a una risoluzione, a una qualità elevate, anche con il mio Ultrabook o con il paradosso del cellulare, dello smartphone, comunque mi danno un'appetibilità. Ora, certo, dipende da gioco a gioco. Magari l'avventura single player non è il massimo, ma già un The Division, sapere che comunque me lo posso portare a presto, giocarlo ovunque, senza doverlo giocare, per forza a casa mia, con il desktop, per avere buone prestazioni, potrebbe avere un'appetibilità. Ma qui subentra, che per me è il secondo elemento, una serie di limitazioni che in questa fase di annuncio, anzi, nella prima fase di lancio, stadiavrà. Uno, il fatto che sul televisore ci potrei giocare solo con Chromecast, perché per ora, in fase di lancio, non ci saranno sicuramente le app native che vede vari televisori, e due, che su mobile funzionerà solo ed esclusivamente con i telefoni Pixel, cioè con i telefoni di Google. Quanto è voluta, perché per esempio, magari per limitare l'accesso iniziale, cioè il numero iniziale di persone che utilizzano il servizio, e quanto è dovuta al fatto che Google vuole spingere i suoi prodotti? Io credo che sia voluta, perché assolutamente si tratta di una fase ancora sperimentale, quindi limitandola ai suoi prodotti, in un qualche modo da un contenuto esclusivo a chi decide di abbracciare l'ecosistema Google in maniera, quello molto ristretto, che passa anche dall'hardware di Google, e poi comunque permette alla società di fare una serie di test che immagino siano necessari, perché comunque un discorso è provare Stadia, come l'abbiamo fatto noi a San Francisco, in un ambiente ultracontrollato, un altro è provarlo nel paesino italiano sperduto sugli appennini. Non c'è neanche bisogno di essere così sperduti. Nemmeno così sperduti, diciamo nel paese italiano. Per quanto riguarda il discorso che hai fatto tu, prendendo ad esempio The Division, secondo me è molto interessante, perché tu dici io pagherei Stadia per poterlo giocare ovunque, però d'altra parte ti dico, nel momento in cui Ubisoft per The Division 4 o 5 saprà che il suo gioco potrà essere giocato ovunque, secondo me The Division assumerà, quel nuovo The Division assumerà già una connotazione, una formula completamente diversa, perché a quel punto il publisher non parlerà più al pubblico della console o del PC, ma parlerà a un pubblico che sa che potrà giocarlo anche in Cina, sul telefono, e quindi è un pubblico molto più vasto. E quindi non sarà più automaticamente, per me, un gioco da 60 euro, ma sarà un gioco che abbracciarà un altro modello di business, sarà molto diverso, sarà accessibile a tutti scaricandolo, e poi ti chiederà di pagare con altre formule di pagamento. Quindi è veramente, secondo me, poco conciliabile la formula del gioco classico con Stadia, nel senso che automaticamente il successo di una piattaforma come Stadia, quindi completamente orizzontale a livello di device, e anche di possibilità di gioco in movimento, ad esempio, porterà in automatico, qualora dovesse aver successo, a un ulteriore ampliamento di quella che è la formula che oggi vediamo su mobile. Questo è più o meno quello che penso. Quindi fondamentalmente la tua idea è Stadia, per avere successo, e per essere, diciamo, qualcosa di differente, dovrà necessariamente collegarsi a una nuova tipologia di videogioco. Cioè, non è la piattaforma ideale per le esperienze videoludiche che viviamo oggi. Io penso di sì, io penso che veramente possa, da una parte, rientrare in quello che è il grande ecosistema del 5G, delle cloud app di Google, che passerà ovviamente dal Play Store, dai miliardi di dispositivi Android disponibili in giro per il mondo. E poi, magari, su desktop o su altre piattaforme, tipo la TV di casa tramite Chromecast, oppure tramite un'app dedicata, sarà comunque una porta per un tipo di esperienze, quello che penso io, più casual o le esperienze competitive. Cioè, tutte quelle esperienze che, diciamo, da Forn in giù, permettono veramente a decine, centinaia di milioni di persone di giocare subito e poi man mano spendere. Un pochino casual, anche se, diciamo, più accessibili. Perché comunque è difficile dire che Fortnite sia un gioco casual. Comunque c'è il competitivo, cioè, chi è forte a Fortnite e gente che gioca a 12 ore al giorno non lo gioca in modo casual. Però, diciamo, è una piattaforma che io vedo molto bene per esperienze più accessibili. Allora, io mi trovo un po' più a metà strada rispetto alla tua valutazione, nel senso che, pur ritrovando delle assolute verità in quello che dici, perché è indubbio che si debba legare a un nuovo modo di sperimentare il videogioco, per forza, per avere successo, trovo comunque che Stadia possa comunque rispondere a una serie di esigenze che oggi sono venute, del tipo, che oggi sono venute fuori, in realtà ci sono da parecchio, che è quel pubblico di massa spesso legato magari al massimo a uno, due videogiochi, che ad oggi comunque sono costretti a comprare la piattaforma per quei pochi giochi. Mi viene da pensare a una marea di parenti che rinnovano spesso PlayStation solo ed esclusivamente a giocare a PES. Lo stesso ragazzo che ci sta riprendendo è, diciamo, un utente che comprerebbe PlayStation solo ed esclusivamente per un Uncharted o un The Last of Us. Ecco, credo che comunque Stadia possa diventare la risposta anche per quel tipo di persone. Cioè, slegarlo dalla piattaforma potrebbe far venire voglia a molte più persone di dire, ok, spendo 60 euro, mi gioco quel gioco a cui tengo tantissimo, non ho bisogno di nessun'altra piattaforma, me lo posso giocare dove mi pare e ho risolto il mio problema. Anche a rischio di giocare uno, due giochi l'anno. Cioè, secondo me può avere quel grado di appetibilità che oggi manca, può averlo assolutamente, come dici te, su un ecosistema futuro di 5G, applicazioni in mobilità, c'è da aggiungere il terzo elemento che è chiaramente una risposta allo strapotere che stanno ormai avendo Twitch e altre piattaforme che hanno preso il sopravvento su YouTube. Cioè, la parte di YouTube Gaming è chiaramente in un declino, non dico inarrestabile, ma comunque in una fase discendente. Credo che Stadia sia una precisa volontà di Google di riportare, di far riavvicinare i giocatori a YouTube, permettendo nuovi modi per far monetizzare i content creator, chiaramente, permettendo nuovi modi di giocare con i content creator e quindi di far ripartire la pubblicità, perché poi alla fine quello gli interessa Google, la pubblicità, i pre-roll su YouTube. Ecco, cosa pensi di questi tre commissioni? Allora, la parte YouTube è assolutamente vera, nel senso che può essere un volano molto interessante. Per quanto riguarda i giochi, quelli che un certo tipo di utenza vuole sempre rinnovare su nuove piattaforme, però a questo punto ti chiedo, ad esempio, prendiamo l'esempio di FIFA o PES. PES, sì. Nel momento in cui tu potrai giocare a FIFA tramite Stadia anche su telefono, Ok? Qualora questa formula si rivelasse un successo, per Electronic Arts però, che vantaggio, cioè quale sarebbe il vantaggio di avere due versioni di FIFA sullo stesso, sul dispositivo mobile? Cioè, secondo me, a quel punto ci sarebbe la convenienza in una convergenza tra la versione Play Store Android, che poi sarà quella FIFA Stadia per mobile, e quella classica. Quindi comunque sarebbe un riportare... Si afficinano. Comunque sarebbe avere una stessa versione di un singolo gioco, che è quello che comunque l'anno scorso Electronic Arts in qualche modo ha già annunciato che sta lavorando sulla convergenza su mobile. Cioè, per me comunque c'è necessariamente una convergenza verso un'unica versione dello stesso gioco, di questi giochi ultra popolari, che inevitabilmente va più a strezzare l'occhio al mobile che al classico. Non ti voglio mettere le parole in bocca, però mi sembra evidente quello che dici, che ti immagini che tra cinque anni comunque giocheremo solo su mobile? Secondo me tra cinque anni i giochi più popolari saranno pensati col mobile, anche col mobile in testa almeno. E da questo punto di vista Stadia è sicuramente... ha una marcia in più su quel fronte. Secondo me sì. Ok, comunque per tutto quello che concerne Stadia, perché ovviamente ci sono moltissime altre informazioni, c'è il pad a 70 euro, insomma c'è il Founders Pack che uscirà anche a novembre in Italia a 130 euro, insomma ci sono diversi elementi che riguardano Stadia e per questo vi straconsigliamo di andare a guardare su multiplev.it perché c'è uno splendido video di sintesi, ci sono articoli, ci sono un sacco di notizie, quindi troverete tutte le informazioni, tutti i dettagli su quello che sta annunciato riguardante Stadia. Noi qui da Los Angeles direi che a questo punto ce ne possiamo anche andare a dormire, domani insomma inizia, si comincia a entrare pian piano nel vivo di questo E3 2019, quindi assolutamente seguiteci tutti i prossimi giorni. Ciao, un boh. Ciao.